bello a tutti ragazzi benvenuto a questo nuovissimo video ragazzi oggi siamo qui su clash royale e sono diventato un pochettino qui è stato un evento ho sette le tre gemme e di certo facciamo facciamolo allora primo garantito 132 carte prima premio 2.200 carte tra cui un'epica allora ragazzi per gli aggiuntamenti che stanno facendo adesso veramente bellissimo perché c'è i ball del clan ci sono anche tanti ball questo è il mio clan dove sto se volete entrare potete entrare possiamo fare anche la classificata sono come vedete ho tutte le carte a parte del e le carte nuove dell'arena però diciamo ci sta tantissimo prossimamente forse caricherò un video dove combatterò con il mio amico che ha la nuova carta e anche non l'ha messo nel deco per ora ha nato una nuova carta ed è anche quasi a linea leggendaria 2000 e salina leggendaria lui invece ha lo stregone elettrico non ce l'ha nel deco però c'è lo stregone elettrico quindi c'è possiamo allora come caricamento dei video si sa non carico tutti i giorni infatti c'è stata una settimana di inattività ma proverò a portarli più spesso allora edito anche non più con il telefono forse non più con il telefono ma con il pc sto scaricando con il computer tutti i programmi soltanto per editare il video e l'audio sarà per il telefono forse l'audio sarà trasferito al computer per registrare il sindicato allora facciamo sfida prima di carte classica più vittorie più premi iniziamo con questa sfida mi piace che pagamento allora basso un po' il volume perché sennò mi sento male gigante tronche spiriti strega vediamo un po' eh abbiamo il mini pecca beh è un deck con il gigante colostro di carista allora partiamo con il cucciolo di raco ragazzi partiremo una nuova serie dove staranno tutte le combo più usate iniziamo ok siamo fermati devi trovare un po' il suo lavoro ok mettiamo gigante non c'è un altro allora dobbiamo tre tronche mettiamo il tronche allora la strega è morta dalla velina poi il gigante è ancora vivo andiamo vai vai questo gigante è portato mettiamo questo no anzi c'è un bravo perché ecco allora lo scudo mi dà un po' di uno vedete quanto danno quanto danno quanto danno quanto danno Francesco la strega lì non ci voleva proprio però intanto 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 che subisce allora ok vediamo di ghiaccio vediamo di ghiaccio vediamo di ghiaccio però se arriva la torre gigante ci fa un bel danno ok con la porra caduta utilizziamo questo se non utilizziamo anche la scarica vediamo di ghiaccio ok va bene non c'è nessun problema qui con il ghiaccio c'è qualche piccolo problema io voglio ripensare gli scheletrini non voglio uscire meno danno possibile adesso è ah c'è la cambierà stiamo speriamo intensissimi iniziamo con questo e questo ricordo che abbiamo gli spiritelli ma non adesso noi abbiamo gli spregi grandi spregi gigante perdiamo già la terza torre adesso mi conto già con la vediamo mi sa che c'ho l'altro un po' non so se si è ruso ma se si è rendendo un po' vai vini pecca vai vini pecca vai vini pecca con la torre è quasi calita ma dove come la dobbiamo tornare guarda così una storia ok vabbè se questo è torre ok la prossima stessa di un'altra e poi la torre è un'altra corona è importante vincere 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 ok abbiamo avuto una carta in più e 50 euro che non fanno mai male come vedete questo qua il mio deco cimitero o stregoni di ghiaccio utilizzo anche i bel bellicetti ma questa carta non la utilizzo ma l'ho messa soltanto per provarla è uscito nel baule nella fricciasta nel baule maggio che è uscito quindi facciamo questa sfida carti ok freccia gober gober stregone elettrico ma non lo so strutture non lo so che mi ha dato ma sono tutte piccoline se me la perdiamo raga oh però la principessa no facciamo girare il deck mettiamo subito le strutture vediamo cosa mette in campio però se ho voluto la principessa sono una regionitaria abbastanza sbagliante ecco qua no la principessa è una struttura no la principessa è una struttura che cosa tope o ma la principessa non lo so è nota è una struttura il è una struttura no no questa partita è stata 핑主 è un po' persa c'è un'emersione qui girando per casa se dicevo che un'emersione piace sarebbe molto vita però il restrattore è un po' attimo che l'ho preso questo per il vincere questo oggetto gira molto 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 molite ce l'avevamo fatta vediamo un po' mettiamo subito questo ma ok non dobbiamo poter subire tanti danni eccola quindi per essere andato a posto della scintina io avendo questo posso distruggere ma devo fare prima così che mi corrisci poi ma ha capito che è gigante ma ha capito che è gigante la persona ha lasciato lo scontro grazie 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 la persona ha lasciato lo scontro grazie ed ecco che su due si ha reso comunque con gli estrattori è nato veramente sotto di anisir allora 240 di euro 5 carte che contiene solo comuni troviamo la leggendaria così in live boscaiolo palla di fuoco ma ma mortaio non lo so eh non lo so siccome è meglio allora però io ho la palla di fuoco è vero ho la palla di fuoco quindi ce la riesco a distruggere ora ora ho da un'esercizio con il gigante e l'olianto è un pala di fuoco ok è diverso non so se faccio foto prima di questa come sta male mortaio ha messo male mi taccio oggi mi sta facendo il pazzino tom la razza allora mettiamo questo qua assicurato di tanto mettendo il boscaio metto questo questo il boscaio lo volevo tenere davvero nascosto il boscaio il boscaio il boscaio il boscaio è un'esercizio ma la scuola non capisce la principessa che vanno da lui vogliamo provare con questo scherzo gigante adesso però vuole essere anche un po' non capisce la principessa non capisce la principessa E' un po' D'acqua D'acqua, 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 d'acqua Hai raggiunto, hai raggiunto, hai raggiunto E' uscito da quella zona, allora io trovo il bosco E' uscito il bosco E' uscito il bosco E' uscito da' uscito E' uscito da' uscito E' uscito da' uscito E' uscito da' uscito E' uscito aia L'amico Ma- boss Zo czyli La państwa Mad madre Vai il gigante royale Dai il boscoiere dai il gigante royale intanto Perché ti parevi la tua squadra? Non ti posso quindi pernelli Nooo noo Ma... Fortunati Ok, adesso ti devo attaccare io Per noi non posso pascarciarmi Allora, allora Vediamo il piano 400 Vince, vince, vince Si è rotta per la sedima, vince Vince Ragazzi, bella partita Ragazzi, bella partita Ragazzi, tre partite Ragazzi, prossimo episodio Vediamo un po' Se riusciamo a continuare Questa sfida Si vede che il gioco Comunque è poco giocato Che giocano Ma non tanto le persone Perché sono soltanto le persone Che non hanno provato l'evento vecchio Però più andiamo avanti Più sarà difficile Bene, allora ragazzi è tutto Se hai visto il video, lei e commento Nel frattempo qua sta caricando La camutasse Ma c'è ancora 25% Noi ci vediamo al prossimo video Buon ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video